Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova videoricetta. Oggi preparo una torta all'arancia un po' rivisitata. Userò i semi di papavero, lo zenzero e gli anacardi. Vediamo gli ingredienti che ci servono. Abbiamo bisogno di 40 grammi di anacardi, 170 grammi di yogurt greco, 210 grammi di farina doppio zero, 20 grammi di amido di mais, 10 grammi di lievito, un cucchiaino e mezzo di zenzero in polvere, una scorza di arancia bio grattugiata, il succo di un arancia spremuto, 15 grammi di semi di papavero, 160 grammi di zucchero di canna, 2 uova e 120 grammi di olio di semi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.